Nell'ambito del progetto di educazione alla legalità della prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo e per la promozione di un utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie digitali, del web e dei social, le classi prime medie della Torraca Bonaventura di Potenza hanno incontrato gli esperti della Polizia di Stato per celebrare il Sefer Internet Day, giornata mondiale della sicurezza in rete. In occasione della giornata mondiale della sicurezza in rete la scuola ha il dovere proprio di valorizzare, di promuovere un impegno radicale che coinvolga tutti gli attori, quindi i genitori, gli studenti, il corpo docente affinché ci sia un'attività di sensibilizzazione e di prevenzione rispetto a un fenomeno che purtroppo è sempre più dilagante quale è appunto quello del bullismo e del cyberbullismo. Questa giornata del Sefer Internet Day è dedicata a questo mondo di internet perché è un mondo che in continua evoluzione è sempre più ampio e che va sempre più verso un'innovazione tecnologica che a volte è difficile stare di dietro. Però le regole, bene o male, rimancano sempre quelle e sono costanti, più o meno sono le regole che noi dovremmo osservare anche nella nostra vita quotidiana, quindi non fidarsi degli sconosciuti. Con internet è sempre più difficile riconoscere una persona che interloquisce con noi dall'altra parte dello schermo. Più sono gratuiti i videogame, più potrebbero rappresentare un rischio di conoscere persone che magari non sono affidabili o corrette. L'aspetto più soggettivo è come bisogna porsi nei confronti degli altri, bisogna avere sempre rispetto, rispetto per i propri coetanei, gli amici, le persone che si conoscono ma anche quelle che non si conoscono.